C'è un problema nella società di oggi di cui non si parla ancora abbastanza. È da anni che questa cosa affligge un po' tutti quanti gli automobilisti. Sto parlando dei copri-sedili universali. Universali? Ma in quale czo di universo? Dove? Dove cazzo li hanno progettati sti copri-sedili di merda? Trading, paper-made, host, NL, Nederland, Olanda. L'ha fatto qualche fattone strafatto di chissà quali droghe. Ha provati dal TUV della Germania. Cazzo di macchina avete allora in Germania? Le Volkswagen. Ma guarda un po', io ho adesso una Golf. E questi cazzo di copri-sedili non vanno bene. Sono troppo corti. Prima avevo una Honda Civic del 1997. E ovviamente i copri-sedili universali non andavano mica bene. Perché il divano posteriore della Civic è proprio incollato. Non c'è fessura, non c'è niente. Non potevi attaccarci un cazzo. Però tu dici allora una Golf, comunque più recente, perché questo sarà una roba recente, non vanno mai bene. Corti troppo questi pochi centimetri che mancano. Il copri-poggiatesta poi te ne lascia a metà sempre scoperto. Un metà davanti, un metà dietro. Dipende come lo poli. Funziona solo su quello centrale dietro, che grazie al suo è molto più piccolo. E non usa mai nessuno. Guarda, guarda in quante lingue me lo scrivono. Universale. Ma guarda che non è vero un cazzo. Qua ti scrivono un romanzo. Oh, e ci sono anche le istruzioni con tanto di fotografia. Ma dai. Oh, guarda. Devi prendere la stoppa. Mettela attorno al sedile. Però non funziona. Non so neanche in che lingua è questo. Finlandese. Istruzioni in finlandese. Ma se in Finlandia dentro le macchine si mettono le renne vive perché fa freddo. Istruzioni per come lavarli, stirarli, lavarli, stirarli. Se è già tanto che riesci a infilarli, che poi dopo che hai montato lo schienale dietro, no? Ti accorgi che c'è qualcosa che non va. Che tira troppo da un lato o dall'altro. C'è qualcosa che non dovrebbero esserci. Non è come in figura. Perché allora sì che guardi la figura. Anche se non si capisce un cazzo che è stampato malissimo. E allora capisci. No, hai sbagliato. Hai invertito i pezzi. Poi guardi dietro e c'era l'etichetta con scritto qual è quel pezzo lì. Ma porca p... Però sulle istruzioni non c'è scritto. Controlla l'etichetta così sai dove mettere il pezzo. E questo di elasticini, quelli che devi tirare dietro da una parte e dall'altra e collegarli con quei gancetti di me... Che ci sono due tipi di gancetti. Ci sono quelli di plastica che durano più o meno 5 secondi perché si spezzano mentre li stai mettendo. Oppure quelli metallici che forse sono anche peggio. Perché prima ti infilzi sempre un po' il pastrello. Dopo che hai pulito il sangue lo agganci. Ma nel tirare si spezza un altro pezzo di elastico di questi cazzi. Ah! Poi per i sedili posteriori ti fanno sempre le cerniere che puoi aprire che non vanno mai bene. Io non so veramente se questo di macchina l'hanno progettato. Non pensano mai che ci sono anche le cinture di sicurezza dietro. O metto la cintura o metto il coprisedile perché non c'è spazio per la cintura. Perché un coprisedile universale o nell'universo non si usano le cinture di sicurezza. Ma tranquillo che tanto il primo vigile di qualunque universo ti farà multa se c'è l'universo dietro senza la cintura di sicurezza. Una conquista della civiltà incredibile. L'universalità. Universale. Universale poi vuol dire per i poveri alla fine. Perché diciamo la verità. Non volevi spendere più di 20 euro. Spendi 40, 50, prendi quelli fatti su misura per la tua macchina. Perché è meglio che buttare 20 euro del cazzo per questi coprisedili che non userai mai. Che poi ricicli come coperta da mettere nella cuccia del cane. Che è piena di coprisedili, pulci, peli di cane. E allora dovrebbero scrivere sulle confezioni. Coprisedile. Universale. O coperta per cuccia per cani. Con pezzi di ricambio. Questo è. Che non vanno bene neanche per il cuscino del cane. E' quei cuscinoni dove mi sono sbagliata anche lì. Coprisedili universali. Sì. Universali stop.